Siamo a Trento, il Festival dell'Economia e parliamo di competenze. Abbiamo parlato con una start-up innovativa e con un'impresa e naturalmente con il mondo dell'Accademia e della Ricerca. Dobbiamo unire tutti questi aspetti per disegnare le professioni del futuro, il lavoro del futuro, puntando naturalmente su territori attrattivi in grado di far arrivare qua talenti da tutto il mondo e soprattutto promuovere i talenti del nostro territorio. Competenze STEM al centro di questa bellissima discussione.